ciao a tutti i bambini sono caggiolino il simpatico cane lucanum oggi sono in giro nella riserva regionale dei calanchi sapete cosa sono i calanchi no sono delle artistiche sculture naturali frutto dell'erosione effettuata dall'acqua nel corso di oltre un milione di anni sul terreno argilloso questo antichissimo paesaggio ha da sempre ispirato poeti scrittori registi inoltre quest'area oltre ad essere un patrimonio scientifico è particolarmente importante per la sosta e la riproduzione di tantissime specie di uccelli bio mi sembra di essere sulla luna ma sono in basilicata vediamo un po col mio binocolo cosa c'è su questi cocuzzoli scolpiti bio che meraviglia chissà cosa sarà andiamo insieme a scoprirlo brillate nella notte come una terra che non ha bisogno del sole vi innalzate come giganti di sabbia per custodire borghi antichi e proteggere biodiversità voi siete i calanchi messaggeri di una natura senza tempo eccomi qua bambini davanti a me sopra i calanchi con le sue mura medievali si erge l'incantevole montalbano ionico questo importante comune lucano si affaccia sulla riserva regionale dei calanchi e sorge a pochi chilometri dal bellissimo mar ionio qui nel suo centro storico c'è palazzo rondinelli con il suo fantastico arco dell'orologio al suo interno è presente la biblioteca comunale che ospita il fondo antico una raccolta di oltre 9.000 libri antichissimi pensate che alcuni volumi risalgono al 1500 bio quanta cultura pensate bambini all'interno del palazzo è presente anche un importante pinacoteca e sono i presenti reperti archeologici e storici rinvenuti fra i calanchi ciao bambini e alla prossima avventura